Raggiungere la Basilicata è diventato ormai davvero un'impresa pioneristica. Per decidere poi di arrivarci in treno non ci vuole solo spirito di avventura, ma bisogna avere dalla propria anche una massiccia a dose di fortuna. Sarà anche colpa delle tratte, della non facile orografia dei luoghi, ma pure Trenitalia ci mette del suo. Due disservizi registrati solo nella scorsa settimana in concomitanza con le festività di ogni santi. Il più recente è quello di domenica sera, che ha riguardato i viaggiatori dell'Intercity Roma-Potenza-Taranto. In 70 sono stati costretti a viaggiare in piedi negli angusti corridoi del treno. La causa? All'Intercity mancava la carrozza numero 4, per la quale comunque i posti erano già stati prenotati e anche pagati. A nulla sono valsi gli appelli del capotreno a Trenitalia per raggiungere la carrozza mancante. Così ai beffati viaggiatori, ai quali non è stato neppure concesso un posto a sedere su di un autobus sostitutivo, è toccato il corridoio. Non è andata bene anche a quanti giovedì pomeriggio, alla vigilia di ogni santi, erano saliti in treno per raggiungere la Basilicata dalla capitale. Prima, attorno alle 18, il treno è stato costretto a fermarsi per soccorrere il regionale laziale di Verto ad Aversa. Poi, attorno alle 20, lo stesso Intercity 707 ha dato forfè all'altezza di contursi. E così i viaggiatori sono stati costretti ad abbandonare le carrozze, dirottati su 5 pullman. Da Trenitalia è interpellata al momento, nessun commento.